Ossilità, estremismo e violenza sono tradimenti della religione. Noi credenti non possiamo tacere quando il terrorismo abusa della religione. Così Papa Francesco all'incontro interreligioso svolto si adur vicino a Nassiria nella seconda giornata del viaggio apostolico in Iraq. Questa mattina la visita del pontefice all'Ayatollah al-Sistani, massima autorità degli Sciti. Da oggi fino al 6 aprile, quindi Pasqua compresa, è in vigore il nuovo DPCM anti-Covid. Da lunedì cambieranno i colori di alcune regioni. Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Restano chiusi impianti scistici, palestre, piscine e sale giochi. Più del 60% delle risorse derivanti dal bonus baby è andato ai nonni di famiglia che nonostante fossero la fascia a maggior rischio di contagio sono stati reclutati per accudire i bambini rimasti a casa a seguito delle chiusure scolastiche. Un buon sabato a tutti voi dal TG2000. Papa Francesco continua la sua visita apostolica in Iraq. A Bagdad oggi pomeriggio nella cattedrale di San Giuseppe sarà celebrata la Santa Messa in rito caldeo che potrete seguire in diretta su TV2000 dalle ore 16. L'evento centrale di questa mattina è stato l'incontro interreligioso a Ur dei Caldei nei pressi di Nassiria un incontro che è culminato con la preghiera dei figli di Abramo. Nel mondo d'oggi è affermato il Papa e i credenti sono chiamati a testimoniare la bontà di Dio a mostrare la sua paternità mediante la loro fraternità. Il servizio del nostro inviato in Iraq, Paolo Fucili. Anche se il paesaggio è arido e inospitale venire qui oggi per Francesco è come tornare a casa. Ur dei Caldei nel sud dell'Iraq sito archeologico della casa di Abramo nostro padre, dice il Papa e i rappresentanti delle religioni dell'Iraq radunati per un solenne incontro interreligioso. Canti, letture bibliche e coraniche testimonianze e discorso del Papa. Affermiamo che Dio è misericordioso e che lo fessa più blasfema che profanare il suo nome odiando il fratello. Ostilità, estremismo e violenza non nascono da un animo religioso. Sono tradimenti della religione. E noi credenti non possiamo tacere quando il terrorismo abussa della religione. Anzi, sta a noi dissolvere con chiarezza i fraintendimenti. Se vogliamo custodire la fraternità esorta il Papa, alziamo lo sguardo come Abramo verso il cielo. Francesco ricorda le nubi oscure della guerra e della violenza addensate sull'Iraq. Ma anche in quel buio, aggiunge, sombrillate stelle come i cristiani e musulmani che ora, insieme a Mosul dove Bergoglio sarà domani restaurano chiese e moschee. Le ultime parole sono quelle della preghiera dei figli di Abramo ad una sola voce sostieni le nostre mani nella ricostruzione di questo paese. La giornata del Pontifice però è iniziata con la visita all'Ayatollah al-Sistani massima autorità degli Sciti nella città sacra di Najaf. Durante l'incontro, Francesco ha sottolineato l'importanza della collaborazione e dell'amicizia fra le comunità religiose perché ha detto coltivando il rispetto reciproco e il dialogo si possa contribuire al bene dell'Iraq e dell'intera umanità. Al-Sistani in una nota ha auspicato che le grandi potenze diano priorità alla ragione e alla saggezza rinunciando al linguaggio delle guerre. E sulla visita del Papa in Iraq ascoltiamo ora il commento del giornalista Alberto Negri esperto di politica internazionale in particolare del mondo arabo. Si tratta di una visita storica per due dimensioni una pastorale e l'altra politico-diplomatica. Quella pastorale è evidente l'abbraccio del Papa ai cristiani d'Oriente e d'Iraq che hanno sofferto moltissimo in questi anni. Ricordiamo che erano un milione e trecentomila nel 2003 la caduta di Saddam e oggi sono diventati trecentomila. Un abbraccio non solo ai cristiani ma anche ai musulmani sciiti, sunniti agli yazidi a tutte le minoranze che in questi anni in Iraq hanno sofferto. Parliamo di milioni di morti e milioni di profughi. Poi c'è l'aspetto politico evidenziato dall'incontro del Papa con Alessistani la massima autorità religiosa sciita ma di tutto il paese che per la prima volta riceve un leader che non è solo religioso come il Papa ma anche il capo di uno Stato occidentale. E noi continueremo a seguire in diretta il viaggio del pontefice in Iraq nello speciale del nostro programma e il diario di Papa Francesco prossimi appuntamenti alle 15.40 prima della messa in rito caldeo che sarà trasmessa alle ore 16 e poi ancora allo speciale condotto da Gennaro Ferrara a partire dalle 17.30. Cambiamo pagina la curva dei contagi nel nostro paese l'indice RT è sopra l'1 oltre 3 milioni casi dall'inizio della pandemia il tasso di positività è al 6,3% con altri 297 decessi ci riferisce Letizia Davoli 3 milioni di contagi in un anno con numeri purtroppo che dopo settimane in calo ricominciano a salire 24.000 nuovi positivi nelle ultime 24 ore contro i 22.800 del giorno precedente sul numero record di tamponi 378.000 il tasso di positività si abbassa da 6,7 a 6,3% calano i decessi da 339 a 297 mentre continuano a crescere i posti letto occupati sia nei reparti covid che nelle intensive che restano però nella media nazionale ancora sotto la soglia critica del 30% questa settimana la situazione epidemiologica mostra una tendenza al peggioramento e l'incidenza di casi di covid-19 cresce a 195% per 100.000 abitanti anche l'RT è in salita e si fissa intorno a 1,06 quindi dopo sette settimane supera di nuovo l'unità 10 le regioni che hanno superato il valore di soglia di RT pare a 1 di queste 6 hanno indice di rischio alto unica nota positiva diminuiscono grazie ai vaccini i focolai nell'RSA e i contagi tra il personale sanitario crescono invece in famiglia la circolazione di varianti soprattutto quella inglese che ormai predominante di quella brasiliana sul territorio nazionale rafforza la necessità di interventi di contenimento anche a livello locale e un'accelerazione della campagna vaccinale ma al momento la campagna è ancora nel caos si procede all'organizzazione di nuovi presidi vaccinali con l'aiuto della difesa delle comunità locali per allestire più siti possibile entro fine marzo le consegne torneranno a pieno regime ed è necessario farsi trovare pronti il presidente della repubblica Sergio Mattarella ha visitato questa mattina il centro di vaccinazione nuvola all'Euro di Roma accompagnato dal presidente della regione Lazio Zingaretti il presidente Mattarella ha ricevuto gli applausi degli operatori e di alcuni cittadini presenti nella struttura e da oggi fino al 6 aprile quindi Pasqua compresa in vigore il nuovo DPCM anti-covid da lunedì cambieranno i colori di alcune regioni solo 6 sono in giallo Sardegna bianca e il resto dall'arancione al rosso tutti i dettagli nel servizio di Massimiliano Niccoli dal 27 marzo la riapertura di cinema e teatri da subito su prenotazione quella dei musei ma solo nelle regioni colorate di giallo queste alcune delle novità presenti nel nuovo DPCM il primo dell'era Draghi che varrà fino a dopo Pasqua ma si tratta di concessioni che adesso vista la crescita della curva dei contagi appaiono fortemente al rischio restano invece chiusi impianti sciistici palestre piscine saleggiochi confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino e almeno fino al 27 marzo anche il divieto di spostamento fra regioni si attendono però ulteriori provvedimenti restrittivi un assaggio in Campania dove il presidente De Luca ha deciso di rendere il suo territorio zona rossa perché questo livello di contagio non si può più reggere perché la ricaduta sulla rete ospedaliera diventa grande e alla lunga insostenibile passano in fascia arancione Friuli e Veneto dove resta l'Emilia Romagna che però vede in zona rossa due importanti città come Bologna e Modena e nelle zone rosse come prevede il DPCM scuole chiuse in presenza mentre per le altre regioni la decisione spetta al governatore stesso discorso per i negozi mentre in Italia nei giorni festivi e prefestivi restano chiusi i centri commerciali e i mercati chi vive in zona rossa poi non può visitare parenti ed amici e non può nemmeno andare dal barbiere perché i servizi per la cura della persona non possono aprire rimane infine il divieto di asporto per le attività del bar dopo le 18 come per gli altri esercizi commerciali della stessa tipologia viene consentito invece l'asporto fino alle 22 dalle enoteche o dagli esercizi di commercio al dettaglio di bevande resta ovviamente vietato il consumo sul posto così come feste e assembramenti in generale gli esteri nuova manifestazione di protesta in Myanmar contro il colpo di stato del primo febbraio che ha rovesciato il governo civile di Aung San Suu Kyi la repressione ha causato finora almeno 55 morti interviene il consiglio di sicurezza dell'ONU ci riferisce Massimiliano Cocchi le immagini rubate con un telefonino mostrano gli arresti di massa che l'esercito continua ad eseguire per le strade di Rangon e l'uso della forza contro le manifestazioni pacifiche che vanno avanti ormai da un mese da quando cioè il primo febbraio con un colpo di stato i militari hanno preso il potere arrestando il premio Nobel per la pace a Aung San Suu Kyi e i vertici del suo partito la Lega Nazionale per la Democrazia uscito vincitore dalle elezioni di novembre dopo esser rimasti a guardare da una settimana i militari hanno iniziato a usare il pugno d'ure ormai denuncia Amnesty International l'ordine è sparare sui manifestanti le Nazioni Unite stimano che i morti siano almeno 55 che oltre 1700 persone siano state arrestate tra loro 29 giornalisti la commissaria dell'ONU per i diritti umani Michelle Bachelet ha chiesto di fermare immediatamente quella che ha definito una feroce repressione mentre l'inviato delle Nazioni Unite Christine Burgner in una riunione del Consiglio di Sicurezza ha domandato per quanto tempo ancora permetteremo ai militari di andare avanti sollecitando azioni immediate e decise contro il colpo di Stato e in sostegno del risultato delle elezioni di novembre nonostante tutto a Rangon e in molte altre città centinaia di migliaia di persone continuano a protestare scendendo in strada o con atti di disobbedienza civile gli scioperi nel settore pubblico stanno mettendo in crisi la già fragile economia del paese con banche e uffici ministeriali chiusi scuole deserte trasporti fermi da ieri i media di regime continuano a ripetere che chi non riprendere il lavoro entro lunedì sarà licenziato torniamo in Italia in 12 mesi di pandemia il prodotto interno lordo ha subito una riduzione di 183 miliardi di euro da marzo dello scorso anno 262 mila lavoratori autonomi hanno perso l'occupazione nel 2021 ben 450 mila imprese rischiano la chiusura sentiamo Luigi Ferraiolo la pandemia è riportato indietro l'Italia al 1997 infatti i livelli di spesa sono ritornati quelli di 24 anni fa il 2021 che doveva essere l'anno della ripresa è impantanato ancora nella mancanza di vaccini e nella terza ondata del virus analogo alla situazione nel resto di Europa i 12 mesi di pandemia sono costati all'Italia finora una riduzione di 183 miliardi di pill e 137 per i consumi 36 da addebitare all'assenza di turisti sono i conti del dossier le imprese nella pandemia marzo 2020 marzo 2021 predisposto da confesercenti nel periodo hanno perso il lavoro 262 mila autonomi senza interventi nel 2021 rischiano di chiudere altre 450 mila imprese calo del 5,5% dei ricavi anche per il settore bancario secondo la Wilka la Wilcredito la perdita non ha investito in misura uguale tutti i settori a diminuire soprattutto la spesa in alberghi ristoranti e trasporti praticamente ha zerato il settore degli spettacoli commercio e turismo hanno registrato nel solo 2020 una perdita di 192 mila dipendenti calo anche nelle buste paga di chi ha dovuto subire la cassa covid più del 60% delle risorse derivanti dal bonus baby 2020 è andato ai nonni di famiglia ingaggiati per accudire i bambini rimasti a casa a seguito delle chiusure scolastiche Caterina Dall'Olio lo abbiamo chiamato bonus baby sitter anche nel 2020 ma sarebbe stato meglio col senno di poi chiamarlo bonus nonni come rivelano i dati pubblicati dall'Inps le famiglie che hanno chiesto il bonus previsto per la cura dei bambini e rimasti a casa per via delle scuole chiuse hanno ingaggiato per lo più i nonni nonostante fossero la fascia di popolazione più a rischio di ammalarsi gravemente nel dettaglio su 556.348 babysitter pagati con il libretto famiglia con il bonus 339.252 erano over 60 si parla quindi di più del 60% delle risorse finite nelle tasche dei nonni di famiglia l'Inps ha ricevuto più di un milione di domande e le ha accolte quasi tutte per oltre 815 milioni di euro l'Istituto segnala poi che nel periodo indicato sono state accolte più di 300.000 richieste di congedo parentale con causale covid per la grande maggioranza arrivate da donne mentre gli uomini che hanno chiesto di astenersi dal lavoro per prendersi cura dei figli sono stati poco più di 66.000 in crescita ma sempre meno dello scorso anno gli spettatori della quarta serata del festival di Sanremo poco più di 11.100.000 nella prima parte pari al 43,3% di Cher ieri dal palco dell'Ariston Alessandra Amoroso e Matilde Gioli hanno sottolineato la drammatica situazione dei lavoratori dello spettacolo fermi da un anno tra le nuove proposte ha trionfato Gaudiano col brano polvere da sparo e questa sera la finale bene è tutto per questa edizione del TG2000 grazie per aver scelto la nostra informazione vi lascio alle previsioni del tempo augurandovi buon pranzo e un sereno proseguimento di giornata arrivederci grazie a tutti